Orazioni a San Giuseppe Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen Salve, glorioso San Giuseppe, custode dei tesori incomparabili del cielo, è Padre Davidico di colui che nutre e sostiene tutte le creature. Dopo Maria Santissima, tu sei il Santo più degno del nostro amore e meritevole della nostra venerazione. Fra tutti i Santi, tu solo hai avuto l'onore di crescere, guidare, nutrire e abbracciare il Messia, che tanti profeti e re avevano desiderato vedere. San Giuseppe, salva la mia anima e ottienimi dalla misericordia divina la grazia che umilmente domando. E anche per le anime benedette del Purgatorio, ottieni un grande sollievo nelle loro pene. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Potente San Giuseppe, che sei stato proclamato Patrono Universale della Chiesa, ti invoco fra tutti i Santi, quale fortissimo protettore dei miseri e dei poveri, e benedico mille volte il tuo cuore, sempre pronto a soccorrere ogni sorta di bisogni. A te, caro San Giuseppe, fanno ricorso la vedova, l'orfano, l'abbandonato, l'afflitto ed ogni sorta di sventurati. Poiché non c'è dolore, angoscia o disgrazie che tu non abbia pietosamente soccorso, degnati per i doni che Dio ha messo nelle tue mani di ottenermi la grazia che ti domando. Anche voi, anime sante del Purgatorio, supplicate San Giuseppe per me. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen A tante migliaia di persone, che ti hanno pregato prima di me, hai dato conforto e pace, grazie e favori. La mia anima addolorata non trova riposo in mezzo alle pene che lo tormentano. Tu, o caro Santo, che conosci tutti i miei bisogni, prima ancora che li esponga con la preghiera, sai quanto mi è necessaria la grazia che ti domando. Per questo ti supplico sotto il grave peso che mi opprime. Nessun cuore umano potrebbe comprendere le mie pene, e seppure trovassi compassione presso qualche persona caritatevole, essa non mi potrebbe aiutare. A te, o San Giuseppe, ricorro, e spero che non mi vorrai respingere, poiché Santa Teresa ha detto e ha lasciato scritto nelle sue memorie. Qualunque grazia, si domanda a San Giuseppe, verrà certamente concessa. O San Giuseppe, consolatore degli afflitti, abbi pietà del mio dolore, e porta verso la luce divina e la felicità le anime sante del Purgatorio, che tanto sperano dalle nostre preghiere. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Eccelso Santo, per la tua perfettissima obbedienza a Dio, abbi pietà di me. Per la tua santa vita, piena di meriti, esaudiscimi. Per il tuo carissimo nome, aiutami. per il tuo clementissimo cuore, soccorrimi. Per le tue sante lacrime, confortami. Per i tuoi dolori, abbi compassione di me. Per le tue allegrezze, consola il mio cuore. Da ogni male dell'anima e del corpo, liberami. Da ogni pericolo e disgrazia, preservami. Soccorrimi con la tua santa protezione e nella tua misericordia e potenza, ottienimi tutto ciò che mi è necessario e soprattutto la grazia di cui ho particolare bisogno. Alle anime care del purgatorio, ottieni la pronta liberazione dalle loro pene. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Glorioso San Giuseppe, innumerevoli sono le grazie e i favori che tu ottieni per i poveri afflitti. Tutti coloro che sono ammalati, oppressi, calunniati, traditi, privati di ogni conforto umano, affamati, implorano la tua regale protezione, certi di venire esauditi nelle loro domande. Non permettere, San Giuseppe carissimo, che io sia il solo, tra le tante persone che hai esaudito, a restare privo delle grazie che ti domando. Mostrati anche verso di me, potente e generoso, e ti ringrazierò come mio grande protettore e particolare liberatore delle anime sante del purgatorio. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Eterno Divin Padre, per i meriti di Gesù e di Maria, degnati di concedermi la grazia che imploro. Ti prego devotamente di accettare la mia ferma decisione di essere tra i molti che vivono sotto la protezione di San Giuseppe e di Maria. Benedici il prezioso manto che io oggi dedico a Lui, quale segno della mia devozione. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori. Grazie a tutti i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori e i nostri spettatori. Grazie a tutti